Ciao grandissimi e ben ritrovati, oggi vi riparlo di un progetto free to play play to earn di cui vi ho già parlato in un altro video, vartelo a vedere e te lo lascio qui sull'angoletto. Stiamo parlando di Shutterpoint, un gioco appunto che potranno giocare tutti quanti a prescindere se vogliamo investire o meno e ci darà la possibilità di guadagnare tramite la vendita degli NFT all'interno del gioco. Chiaramente ogni personaggio ha delle possibilità di caratteristiche diverse, quindi in base al vostro play style potete scegliere quale personaggio utilizzare e potrete utilizzare anche più di uno. Il sistema di livelli, chiaramente più giocheremo sia PvP che PvE, ci darà la possibilità di prendere esperienze e di livellare il nostro personaggio. Il massimo livello che è raggiungibile è 50 al momento. Ci sono delle base stat che sono forza, agilità, costituzione, chiaramente la forza aumenta il danno, l'agilità aumenta l'evasione, la costituzione aumenta i punti ferita. C'è la salute, il danno, la difesa, l'accuratezza ovvero la capacità di non missare e l'evasione invece è la possibilità di far missare l'attacco agli opponenti, ai nemici. Ogni personaggio, come vi dicevo, ha dei tratti speciali. Adesso non vi li vado a leggere tutti quanti, ve lo leggete per conto vostro, scegliete quale vi piace di più, però è importante sapere che ogni personaggio ha dei tratti particolari. Questo ci porterà a dover buildare quel personaggio in una determinata maniera in base al nostro play style. Abbiamo comunque un vasto assortimento di abilità che sicuramente verrà poi anche aumentato, questo cambia anche in base all'arma che andiamo a prendere, anche perché gli oggetti che andremo a prendere ci daranno delle abilità speciali, anche questi ve li andate a vedere. Comunque per dirvi, le armi ci cambiano delle mosse che possiamo fare all'interno del gioco, i guanti ci aumentano l'attacco in qualche maniera, ad esempio possiamo fare un attacco di fuoco, un attacco di ghiaccio e via dicendo. Gli stivali ci danno capacità di movimento, abilità di movimento speciali, ad esempio lo scatto o il correre più veloce e via dicendo. Questi sono importanti nel PvE ma saranno fondamentali nel PvP, quindi dovremo andare a capire come giocare in PvP visto che ci sarà l'1v1 ma anche il team vs team e quindi dovremo andare a selezionare, in base anche al drop degli item che riceveremo, gli oggetti e la build che più ci si addice. Per il nostro playstyle c'è anche la possibilità di inserire le rune che ovviamente ci danno dei bonus, qui parla ovviamente dei quantus che è praticamente il token all'interno del gioco distribuzione infinita che non è lo stesso esterno che sarà lo SHA appunto da Shatterpoint. Le rune potranno essere fuse per raggiungere rarità sempre più alte, ovviamente più alta è la rarità maggiore saranno i bonus che ci darà. L'equipaggiamento ha rarità diverse, forse avrete intravisto qualcosa nel gameplay, andremo a scegliere l'equipaggiamento che più si addice al nostro personaggio e soprattutto di rarità maggiore. Più è raro l'item maggiore sarà l'effetto delle varie abilità che troveremo all'interno delle armi, delle armature e via dicendo. Ci saranno sfide giornaliere, settimanali e mensili che potremo fare per acquisire appunto i quantus, quindi qua, 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 questi ci serviranno poi come vi dicevo per fare tantissime cose. Una delle possibilità di ricevere questi qua è quella appunto di svolgere le missioni giornaliere, settimanali e mensili, ma anche tramite il PvP, tramite i tornei e tramite gli achievements che otterremo giocando. Gli usi del qua saranno fondamentali all'interno del gioco perché ci serviranno per inserire oppure fondere le rune, per rirrollare i tratti degli eroi, per riparare l'equipaggiamento, per sbloccare dei tratti speciali, per aprire le chest dove ci sarà del loot in base alla chest che scegliamo, il loot sarà più o meno forte e per comprare i tickets dei tornei e degli eventi. Gli NFT saranno la principale fonte di guadagno di questo gioco, infatti con gli NFT avremo la possibilità di andare in un marketplace e vendere e comprare NFT. Questi NFT saranno gli eroi, anche se potremo giocare in maniera gratuita, ci sarà la possibilità di comprare NFT degli eroi. Adesso vi spiego la differenza, poi le rune sono comunque degli NFT, quindi quando acquisiremo delle rune possiamo fare anche il merging per prendere un profitto maggiore. E dei cosmetics, quindi questi sono gli NFT all'interno del gioco per adesso. Perché vi dicevo perché prendere un eroe NFT piuttosto che giocare un eroe totalmente gratis? Perché ad ogni fine stagione i mondi verranno distrutti e quindi tutti i personaggi torneranno a livello 1. I personaggi NFT invece rimarranno al livello a cui siamo giunti. Ci farà risparmiare un sacco di tempo e ci darà la possibilità e il vantaggio rispetto alle persone che giocano totalmente free di accelerare i tempi, di non perdere soprattutto tempo e di potersi procurare le cose in maniera più rapida. Questo non esclude il fatto però che questo gioco può essere giocato e ci si può guadagnare in maniera totalmente gratuita. Lo Shutterpoint appunto è il token di governance, è quello esterno al gioco, anche se stanno pensando eventualmente di inserirlo anche per alcune opzioni di gioco. Cosa che secondo me sarebbe giustissima perché il problema è che se noi adesso andiamo a prendere il token di Shutterpoint lo possiamo mettere in staking eccetera, però che valore di mercato ha? Non si sa, cioè se non c'è un sistema di utilizzo di questo token alla fine l'utiliti qual è? Quindi qui sicuramente inventeranno qualcosa. Vi dico pure che sulla sezione ufficiale italiana all'interno del Discord ufficiale appunto di Shutterpoint abbiamo costruito questa community italiana, grazie anche al video che avevo fatto precedentemente e lì Stevie ha creato una traduzione di questo white paper. Quindi entrate nel Discord e ne parlate con lui, dovrebbe essere pinnato nella sezione italiana e quindi se non siete in grado di leggerlo in inglese andatevelo a leggere in italiano. Detto questo vi saluto e alla prossima!